Bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, abuso d'ufficio, distrazione di fondi pubblici, sono le accuse contestate a vario titolo a 15 amministratori della SOACRO SPA, la società mista pubblico-privata che gestiva i servizi idrici e depurativi nella provincia di Crotone prima di essere dichiarata fallita dal Tribunale nel gennaio di quest'anno. Accuse contenute nell'avviso di conclusione delle indagini, notificato questa mattina dai finanzieri del nucleo di pulizia tributaria su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone. L'operazione denominata Acqua Chiara ha così permesso di rilevare una serie di affidamenti illegittimi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015, che avrebbero generato un aumento dell'esposizione debitoria attraverso la contabilizzazione di false note di credito e crediti inesistenti, il tutto con il solo scopo di mascherare, attraverso falsi bilanci, la profonda voragine che si era creata nei conti della società, che nel frattempo ha continuato a ricevere finanziamenti pubblici. I dirigenti sono accusati inoltre di avere distratto fondi pubblici ricevuti da progetti cofinanziati dall'Unione Europea per 710 mila euro, di avere conferito incarichi di consulenza per oltre 200 mila euro, di avere sostenuto spese per manutenzione alla rete idrica per oltre 18 mila euro, affidando i lavori ad un'azienda il cui DURC non era valido e i finanzieri hanno stimato attività illecite per oltre 11 milioni di euro. Da Crotone per l'AC News 24.